Benvenuti ad una nuova puntata del format Tu per Tu. È un piacere oggi ospitare Morena Gallo, una giovanissima cronista del Quotidiano del Sud e della rivista Giallo, nonché negli anni ha collaborato anche con noi di Cosenza Post. Morena, nonostante la sua giovanità, è già un punto di riferimento per il giornalismo calabrese, conosciutissima per la sua attività nell'ambito della cronaca giudiziaria e non solo. Qualche settimana fa il suo nome è balzato purtroppo agli onori della cronaca, perché è stata vittima di un atto intimidatorio nei pressi della sua abitazione. Benvenuta Morena, parliamo subito di quello che è successo, ce lo racconti? Buon pomeriggio e grazie innanzitutto per l'invito. Sì, purtroppo sono da persona che racconta i fatti, mi sono trovata ad essere raccontata nei fatti giornalistici per questa brutta azione che è stata compiuta nei miei confronti. Non so oggettivamente cosa dire in relazione a questa vicenda, che sicuramente mi ha colpita, perché per quanto ci si abitua a determinate situazioni o comunque ci si fa sempre i conti, alla fine sono cose che turbano in qualche modo la serenità. Io posso dire quello che al momento è già uscito su altri giornali, perché di fatto è quello che so, ho trovato una busta con all'interno una bambola appunto decapitata, con i capelli strappati addirittura, all'interno del vestito di questa bambola, che era sostanzialmente una Barbie, ho trovato un biglietto scritto a macchina dove mi sindicava la mia professione, c'era scritto giornalista in stampatello, battuta al computer e per lì ho subito capito quello che stava succedendo. Ho avvisato i carabinieri, ora ci sono indagini in corso, chiaramente è difficile per me dire in quale contesto sia maturato questo fattaccio, e lo definisco così perché mi piace pensare, per assicurare me stessa e anche le persone che mi stanno intorno, mi piace pensare che sia stato uno scherzo di cattivissimo gusto. Chiaramente ci sono accertamenti da parte delle forze e l'ordine in più direzioni, principalmente appunto si segue la pista professionale, perché il riferimento era chiaro alla professione, però al momento non c'è niente, sicuramente i tempi sono lunghi, stanno espletando tutte le verifiche necessarie, da telecamere di sorveglianza della zona a testimonianze più o meno dirette e si spera che qualcuno abbia visto chi ha messo quella busta alla ruota anteriore della mia macchina che, sottolineo, era parcheggiato in un condominio e quindi una palazzina recintata, pertanto hanno scavalcato, comunque sono entrati all'interno nel cuore della notte. Hai fiducia nei magistrati, negli inquirenti, nella magistratura? Io ho piena fiducia nella magistratura, chi mi conosce nella magistratura e nelle forze dell'ordine, i carabinieri, nel mio caso, stanno seguendo il caso, la stazione di Montalto, perché io sono appunto residente nel comune di Montalto, anzi colgo l'occasione appunto per ringraziarli, perché sono andati anche un po' oltre quelli che sono i loro compiti, perché mi hanno rassicurata, insomma hanno disposto un servizio di vigilanza nei pressi della mia abitazione, questo comunque mi conforta, proprio perché dà serenità anche alle persone che mi stanno vicine, soprattutto i miei cari con cui vivo. Io ho piena fiducia nella magistratura, chi mi conosce lo sa, anzi spesso vengo da qualcuno criticata, proprio perché forse sono troppo legata alla magistratura, ma del resto condivido e approvo molti valori, molti ideali con magistrati forze dell'ordine, e quindi sono sicura che la loro professionalità in qualche modo e anche la loro determinazione in qualche modo riuscirà a fare chiarezza su questo fatto, quantomeno si riuscirà a ristabilire una tranquillità che al momento io ho, ma molte persone che sono intorno a me chiaramente non hanno, perché poi c'è da dire che chi sceglie di fare il giornalista mette in conto determinate cose, anche se finché lo si dice in astratto, che lo si pensa in astratto che possono succedere determinate cose, fa meno paura, poi quando accadono insomma qualche domanda ce la poniamo, però comunque l'abbiamo scelto di fare questa professione, ogni volta che chi scrive, soprattutto di Crona Canale Giudiziaro, ogni volta che scriva sa benissimo che questo è un incidente di percorso, del resto tutti i lavori hanno i propri incidenti, il muratore è in pericolo su alcune cose, il poliziotto in altri, il carabinio in altri, i giornalisti hanno tra i pericoli quelli di essere in qualche modo intimiditi, per essere azzittiti, ma anche semplicemente per farli riflettere quando devono andare a scrivere qualcosa, quindi io era una cosa che avevo messo in conto, però chiaramente non posso pretendere dalle persone che mi sono vicine, dalle persone a me care, che questa sia anche una loro scelta. Hai ricevuto molta solidarietà, sia sui social che nel vivo, nonostante questo ti sei sentita sola o ti senti sola? Allora io quando ho iniziato a lavorare ho incontrato tra le prime colleghe con cui poi è nato il rapporto d'amicizia una persona che mi ha detto guarda abituati alla solitudine perché sarà la tua migliore amica, in parte questo è vero perché siamo un po' tutti soli, perché sì, la solidarietà me ne è arrivata moltissima e io anzi qui ora dico che sono stata inondata da messaggi e mi scuso se non ho risposto a tantissime persone, mi scuso se a molti colleghi ho deviato le chiamate, non ho accettato interviste e via dicendo, però era un momento dove io comunque volevo vivere questa cosa da sola, senza appunto apparire sugli schermi e anche oggi per me è ancora difficile parlarne, sono stata proprio inondata dall'affetto ma anche di persone che non sapevo seguissero la mia attività professionale che ho scoperto insomma avere a mio sostegno proprio in questa brutta vicenda. Le persone che credono come me in determinata, nella lotta alla legalità perché poi è la lotta alla legalità partendo dalle piccole cose arrivando poi alle grandi ce ne sono tantissime questo evento brutto, bruttissimo me l'ha ricordato e questo per me è un momento di felicità perché sapere che non si è soli quantomeno nel pensiero perché poi non tutti possiamo fare la stessa cosa chiaramente però sono felice davvero è proprio felicità di sapere che ci sono persone che supportano la nostra causa anche se a volte da lontano senza fare qualcosa in modo evidente però sì, ci sono dei momenti dove comunque si fa i conti con la solitudine credo che sia una sorte che tocca un po' a tutti ai giornalisti così come a chi crede in determinate cose. Dopo questo episodio è cambiato il tuo rapporto con il giornalismo giudiziario? Assolutamente no io il fatto è successo di giovedì dell'ormai scorsa settimana io immediatamente il giorno successivo volevo riprendere a lavorare a fare quello che faccio giornalmente quindi andare in tribunale seguire le udienze passare in caserma insomma fare la mia vita di tutti i giorni chiaramente ho deciso poi ma più che altro appunto per rasserenarmi di riposarmi qualche giorno però in realtà il mio lavoro con il giornalismo il mio rapporto col giornalismo non è affatto cambiato anzi se vogliamo mi sono resa conto con questo fattaccio che io sono profondamente innamorata del giornalismo anche quando ci sono alcuni momenti dove penso capiti a tutti ci sono alcuni momenti in cui ci sentiamo di voler fare altro perché non ci sentiamo pagati beh poi succedono dei fatti che se anche brutti come appunto questo che è successo a me ti ricordano che forse sei fatta per fare quella cosa io sono profondamente innamorata della mia professione che spero di riuscire chiaramente a continuare specie in una terra come la nostra che non sempre te ne dà opportunità però non è cambiato affatto niente anzi spero e sicuramente voglio continuare a fare quello che facevo e lo sto facendo in realtà sul mio giornale lo dico mio perché è il giornale che ospita la mia firma quasi ogni giorno sto continuando a scrivere occuparmi degli stessi temi e il nostro legame c'è il legame tra me e il giornalismo se solamente è rafforzato come è nata la tua passione per il giornalismo e in particolare per questi temi argomenti così delicati beh questa è una bella domanda perché lo dicevi tu ti do del tu perché siamo siamo in una trasmissione che richiede proprio questo in realtà la mia passione per il giornalismo è nata per caso e questo è un po' assurdo da dire perché poi è così forte adesso che non sembra affatto una cosa nata nata per caso e risale ormai ai tempi del liceo dove appunto ho incontrato quello che poi è stato il mio primo direttore che è Piero Sanzonetti che venne nella mia scuola liceo classico a Rendi a fare un convegno e lì insomma abbiamo avuto modo di scambiare qualche parola e lui mi disse e dice perché non mandi qualcosa magari anche un pezzo un articolo su questo appuntamento e magari vedi se ti può piacere dico la verità non l'ho presa affatto in parola perché non lo feci anche perché in quel periodo ero presa da interrogazioni e altre situazioni poi lo feci più in là e da allora iniziai iniziai a collaborare io prima di arrivare alla cronaca nera e giudiziare ho fatto tutt'altro perché mi sono occupata di politica mi sono anche occupata di cultura sanità mala sanità finché poi però non sono arrivata a occuparmi appunto di cronaca nera e la passione per la cronaca nera sì questa è una vera e propria passione che poi si è effusa in qualche modo con la passione che è nata per il giornalismo mi viene da da piccolissima perché mia mamma lo racconta sempre mi dice tu avevi due giochi che facevi quando eri bambina o giocavi a fare l'avvocato e però dicevi di voler difendere i delinquenti quindi volevo fare il penalista chiaramente oppure ti mettevi davanti lo specchio mi dice sempre e dicevi il telegiornale di fatto studio giurisprudenza sono quasi alla fine e ho sempre sentito in qualche modo questo qualcosa dentro di me che mi porta a battermi per la legalità e quando parlo di legalità non mi riferisco alla lotta alla criminalità organizzata perché lì stiamo parlando di un macrosistema e io non mi sento per quanto mi occupo anche di criminalità organizzata non mi sento di fare alcuna lotta alla criminalità io parlo proprio di legalità perché credo che in una regione come la nostra in una società come la nostra ce ne sia bisogno e che non siamo affatto propensi a temi di legalità perché manca un senso comune e quindi giornalmente attraverso anche i piccoli gesti ma davvero piccolissimi per esempio il parcheggio del disabile occupato da un non disabile piuttosto che anche il parcheggio in doppia fila che a cosenza ormai è una consuetudine però insomma è una mancanza di legalità anche quella quindi ogni giorno cerco di fare queste cose proprio per portare avanti quello che da sempre è stata una un qualcosa che sentivo dentro appunto una lotta per ristabilire un ordine sociale come l'avrebbe chiamato Hobbs molti telespettatori anche io qua in studio insomma noi ci chiediamo non era meglio occuparsi di temi meno rischiosi più tranquilli allora in realtà la risposta è quasi scontata e sì chiaramente è più facile occuparsi di determinate cose però io credo che se non c'è nessuno che fa determinate cose diventa anche difficile poi raggiungere determinati obiettivi io personalmente non penso di fare qualcosa di così assurdo non penso di fare qualcosa di così difficile o di qualcosa che in qualche modo mi sta togliendo la vita assolutamente no io vivo tranquillamente faccio le mie cose scrivo cerco di scrivere e sottolineo cerco perché non sempre ci riesco cerco di scrivere la verità però faccio comunque una cosa che secondo me non è poi così pericolosa chiaramente scrivere dello spettacolo teatrale è tutta un'altra cosa ma io personalmente faccio i complimenti ai colleghi che scrivono di spettacoli perché io vi posso assicurare che sarei completamente incapace di fare una cosa del genere secondo te occuparsi di questo tema in Calabria è più pericoloso rispetto ad altre regioni allora noi in Calabria viviamo di quest'ombra che è l'andrangheta l'andrangheta c'è la criminalità organizzata esiste però non esiste solo in Calabria alla fine ogni territorio ha i suoi problemi ogni territorio in ogni territorio c'è quella notizia che dà fastidio quindi nella nostra regione semmai è più difficile convincere e questo lo aspettano i giornalisti ma anche allo Stato convincere la società con buoni argomenti ovviamente che probabilmente finora non abbiamo avuti convincere la società che è meglio stare dalla parte della legalità forse in Calabria è più difficile questo ma non è più difficile solo perché siamo visti come la regione che ha una mafia potentissima noi siamo una regione come le altre perché in tutti gli altri posti ci sono problemi in tutti gli altri posti c'è la notizia scomoda in tutti gli altri posti ci deve essere ci deve essere sottolineo ci deve essere il giornalista che quella notizia scomoda la porta su un giornale su una televisione e comunque la fa venire la fa venire a galla quindi non credo che la Calabria sia una terra che in cui lavorare è più difficile io almeno non la sento molti tuoi colleghi hanno pagato il prezzo con la propria privazione della libertà personale un esempio Roberto Saviano Federica Angeli pensi che è un rischio che vale la pena di correre? Allora io hai citato dei colleghi anzi io sono minuscola diciamo rispetto a loro però ti dico e mi piace ricordarlo che anche noi del quotidiano abbiamo un collega che ormai vive sotto scorta da molti anni che è Michele Albanese lui risiede nella provincia di Reggio da lì sono venute le minacce quindi in qualche modo seppure io e lui non abbiamo stretti contatti però in qualche modo vivo da vicino quelle che sono le privazioni io non io non so come reagirei ad avere determinate persone sempre dietro ad avere in qualche modo la privazione della mia libertà della mia in qualche modo anche intimità però posso dire una cosa che sicuramente fare fare cronaca scrivere voler combattere certi sistemi qualcosa che ti devi sentire devi sentirlo profondamente perché non deve essere un lavoro perché non può essere un lavoro questo questo io la mi piace più definirla e paragonarla a una missione bene allora se senti di essere in missione allora penso che non ti fa paura niente neppure il pensare che un giorno potresti dover camminare accompagnato ma del resto ci sono colleghi nel reggente passato li chiamo colleghi solo per definire che sono giornalisti ma ripeto io non mi sento affatto una loro collega perché sono molto più grandi di me ma grandi perché hanno fatto cose importanti nella loro vita ci sono giornalisti che hanno perso la vita per la libertà di stampa e per appunto lottare contro determinati meccanismi che purtroppo specie al sud ormai sono radicati vieni descritta come una persona tenace e determinata nonostante come abbiamo detto prima hai una giovane età a quale modello giornalistico ti ispiri? sei stata gentile perché la maggior parte delle persone mi definiscono una rompiscatole più che una persona tenace e determinata sicuramente lo sono perché non sono una che si piega facilmente ma questo in generale lo faccio anche nella vita privata e me lo ricordano sempre a più riprese amici e parenti a quale modello di giornalismo mi ispiro? beh io mi ispiro al modello anglosassone ovvero i fatti prima di tutto e poi basta con questa storia sul diritto all'informazione di cui ci riempiamo ogni giorno la bocca sì il diritto all'informazione deve essere garantito principalmente dal giornalista ma il giornalista non ha e non deve avere diritti il giornalista semmai ha un solo dovere che è quello di scrivere la verità quindi per me i fatti la verità vengono prima di tutti e questo è un'impostazione di tipo che si rifà principalmente al modello di giornalismo anglosassone c'è un messaggio che vuoi mandare a chi si avvicina a questo mondo ad aspiranti giornalisti? ecco appena detto che bisogna scrivere la verità ma un buon giornalista deve anche dire la verità e quindi sarò molto molto singera con chi vuole intraprendere questa carriera non è assolutamente un tentativo di demoralizzare anzi se avete questa forte passione se sentite di voler fare questo mestiere dovete farlo perché altrimenti perderemo una persona in più in una lotta che deve essere comune perché non si può fare una lotta da soli però bisogna tenere presente che è un lavoro molto molto insidioso un lavoro che sta subendo purtroppo tantissime si trova in tantissime difficoltà è un lavoro che specie nella nostra regione è sottopagato è un lavoro quasi non tenuto in considerazione seppure dovrebbe essere una delle regioni che dovrebbe più puntare verso un giornalismo quantomeno veridiero e sano però chi vuole fare questo lavoro è giusto che persegua questa via è giusto che lotti per questa strada io sono è vero mi occupo di cronaca ho la fortuna di poter firmare su un giornale prestigioso in Calabria e di avere collaborazioni nazionali e di questo sono onorata anzi ringrazio comunque le persone che ogni giorno mi danno fiducia perché dare tanta fiducia a un tema così delicato a una persona giovanissima non è cosa da tutti infatti in questo io per questo devo ringraziare il mio direttore che ogni giorno mi ricorda insomma che posso fare questo lavoro però chi si approccia a questo mestiere che ripeto deve essere vissuto prima di tutto come una missione che poi debba diventare un lavoro è una cosa naturale perché è gratis non si può lavorare però prima di tutto deve sentirlo perché approcciarsi al giornalismo e vederlo semplicemente come un mestiere cioè come qualcosa da fare perché a fine mese ti viene lo stipendio credo che sia l'approccio più sbagliato perché alla fine non porta alcun risultato e soprattutto porta a creare una cerchia di professionisti che tutto svolgono tranne che l'attività per cui sono chiamati a scendere in campo io vorrei concludere questa intervista con un grosso in bocca al lupo per il tuo lavoro grazie nonché la mia personale solidarietà e vicinanza questa è la calabria che ci piace raccontare una calabria che cambia grazie a donne come Morena che ringrazio per averci raccontato la sua personale esperienza e con le sue parole il lavoro ci ha fatto capire che con la tenagia e la determinazione tutto è possibile grazie ancora Morena per essere stata qui in studio con noi e noi ci vediamo ad una prossima puntata di A Tu per Tu grazie a tutti